Red Ronny mi telefonò nel 97 e mi disse devo fare una puntata a Roxy Bar con Verdone che è un grande estimatore di Jimi Hendrix faresti tu a fare Jimi Hendrix e a mangiare le corde e fare tutte quelle cose che faceva lui? e io dissi no però se vuoi vengo con la chitarra acustica e faccio una versione di un brano di Hendrix con Wawa sai come roba lì? andai a fare la trasmissione e diventai conoscente di Verdone per quattro mesi perché poi dopo non riuscirai più a beccarlo e senti questa versione molto strana di Woodchime e adesso ve la ripropongo e adesso vi ringrazio il nostro canale 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 è andata la corda è andata pesissimo praticamente l'altra sera vedendo il film di Jimi a un certo punto sta facendo Red House e gli è partito una corda e gli è partito una corda ma stasera anche essi è successo la stessa cosa ma Frodo ha la corda che mi è andata e il cinema un ebulo hai ebulato Jimi cimino ecco ovvero cimino 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 chiamino cimino cimino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti